Cari amici, benvenuti in questo nuovo unboxing! Oggi vi vogliamo parlare della tastiera da gaming più venduta su Amazon, ovvero la Klim Chroma. Questa potrebbe essere la tastiera che stavo cercando perché volevo qualcosa che non fosse troppo rumorosa come quelle meccaniche, ma che comunque potesse garantirmi una certa resistenza nel tempo. E quindi abbiamo visto che questa potrebbe davvero essere la soluzione ideale. Trovate tutti i link in descrizione se volete saperne di più ed ecco a voi la tastiera. È una tastiera USB e così la vediamo da spenta, comunque molto carina, ma il meglio di sé naturalmente lo dà da accesa. Guardate quanti bei colori che si susseguono e naturalmente al buio è davvero uno spettacolo. Partiamo subito dalle sue caratteristiche, pesa 600 grammi, comunque è veramente leggerissima, quindi non si sente perché è molto ben bilanciata, ma comunque è piuttosto stabile. I produttori dicono che se vi cade per terra non si rompe perché di plastica dura ABS. Noi non tenteremo di fare un test, ma ci fidiamo di loro. Comunque sul retro troviamo la prossima... Guarda che bella anche sul retro! È carina, è qui rosa! Ma che carina, davvero! Non me l'aspettavo, forse è bella anche da dietro. Così possiamo naturalmente mettere i piedini se ci piace di più averla un pochino più rialzata. I tasti sono reattivi, abbiamo una risposta di 2 millisecondi, quindi ottima. Non fa rumore! Comodissima per chi vuole utilizzare una tastiera anche nel cuore della notte senza farsene accorgere dai vicini. Poi possiamo anche dirvi che la sua dimensione è di 44x14 cm circa. E un'altra caratteristica utile è il fatto che naturalmente voi potrete premere più tasti contemporaneamente senza che ci possano essere dei problemi. Quindi ci sono alcune tastiere che se magari uno preme, non so, CTRL percorre, W, magari si sposta un po' e nel frattempo salta. Non vanno bene, magari si bloccano, si incantano. Questa abbiamo provato con Minecraft, Roblox e altri giochi e non ci ha dato nessun tipo di problema. Uno ci deve un attimino prendere la mano e che come sempre quando uno prende una nuova tastiera ci vuole un secondo perché magari all'inizio uno preme il tasto vicino, naturalmente essendo abituato alla precedente, ma con questa i tasti comunque hanno una buona corsa e non ci hanno dato nessun tipo di problema. Tra l'altro ci dicono che la durata di questi tasti è di ben 20 milioni di pressioni. Dunque non dovremmo avere nessun tipo di tasto rovinato se non prima di anni e anni di utilizzi. Ed è così silenziosa! Ah, che cosa bella! Soprattutto per uno che fa i video, questa è perfetta. Altrimenti il microfono si sente solo la tastiera. Appunto, e poi naturalmente i colori danno veramente un tocco in più. Comunque una delle cose più importanti da sapere è naturalmente il prezzo perché uno deve capire se è una tastiera che può fare per voi anche in base alla sua convenienza. E possiamo dirvi che su Amazon al momento costa intorno ai 25 euro. Come potete vedere il layout della tastiera è italiano, quindi abbiamo il tasto invio grande e tutte le lettere accentate. Inoltre, utile da sapere, la tastiera è waterproof e quindi potrete rovesciargli addosso tutto quello che vi pare e la tastiera continuerà a funzionare. Quindi la clean chroma è una bella soluzione, vi diremo naturalmente nei prossimi tempi come ci stiamo trovando ormai la stiamo provando già da una settimana circa che stiamo facendo alcuni test e ci sta piacendo. Quindi se volete sapere di più vi lasciamo il link in descrizione e anche quello del sito ufficiale. E comunque, noi speriamo che questo unboxing vi sia piaciuto. Ah, mi piace sentirla così. Guarda che belli questi tasti che sono un numero di rosa. Ecco, questi non li premerò mai. Come fai? Se dovete imporare nei commenti, vedete che manca tipo la T o la F o questi qua, capirete perché. Ma che cattiveria! Noi vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi in questo unboxing. E alla prossima con l'Eterna Love. Ciao! 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 Grazie a tutti.